Accadeva esattamente 60 anni fa, usciva nella primavera del 1963 nel Regno Unito, pubblicato da Parlofon, il debutto su LP del quartetto di Liverpool più famoso al mondo, i Beatles, dando inizio alla scalata al successo dei Fab Four. E oggi che succede? Beh, accade che è stata ritrovata la primissima registrazione del primo concerto della band inglese. A farla era stato uno studente, allora 15enne. Direi che sono cresciuto all'istante, sembra un po' un'esagerazione, ma ho realizzato che si trattava di qualcosa che proveniva da un altro pianeta. Così appunto ha dichiarato il 4 aprile del 1963, infatti, John Bloomfield, questo è il suo nome, aveva solo 15 anni, ma aveva già intuito il talento del gruppo di Liverpool che si era esibito nel teatro del collegio di Stowy nel Buckingham, Hampshire. Quel giorno di 60 anni fa, ragazzo appassionato di tecnologia, aveva provato un nuovo registratore a cassette e aveva impresso il concerto dei Beatles su un nastro che ora rappresenta la primissima registrazione di un live dei Fab Four. Bloomfield, oggi ultra 70enne, ha condiviso l'esperimento dell'adolescenza con il programma Front Row della BBC Radio 4 che ha trasmesso in parte la già impeccabile performance del tempo. Il gruppo era stato ingaggiato, infatti, da David Morse, un alunno che apparteneva a una facoltosa famiglia di Liverpool e che gestiva una società di scommesse, Little Woods, e che in forza proprio di questa discendenza così prestigiosa aveva convinto, così si dice, il manager Brian Epstein ad accettare il compenso di 100 sterline, poi pagato grazie alla vendita dei biglietti ai compagni di scuola per quel concerto. La band si era esibita per un pubblico quasi interamente maschile, anche se alcune ragazze avevano assistito al spettacolo. Dal retro, però, è stato solo quando hanno iniziato a suonare che abbiamo sentito le urle e ci siamo resi conto che eravamo nel mezzo di quella che poi sarebbe diventata la Beatles-mania, ha raccontato Bloomfield. Era semplicemente qualcosa che non avevamo mai nemmeno vagamente immaginato e sperimentato. Dai pezzi inediti firmati da John Lennon e Paul McCartney come I Saw Her Standing There, brano di apertura dell'album Please Please Me, uscito il 22 marzo dello stesso anno, poi fino alle cover di brani rock'n'roll e R&B come Too Much Monkey Business di Chuck Berry, i quattro musicisti avevano come ipnotizzato il loro pubblico, esaudendo anche le richieste. Ciascun componente della band mostrava sul palco un'attitudine unica e che si integrava con quelle degli altri. John Lennon faceva voci scherzose, George Harrison aveva perso la voce, non poteva cantare, Ringo Starr era acclamato dal pubblico. La registrazione del concerto dei Beatles è comunque di buona qualità, anche perché non è sovrastata dalle urla dei fan, come ha spiegato Mark Levison, uno storico della band. Beh, allora noi vogliamo tornare proprio al 1963 e a quel primo album di debutto che abbiamo citato, che era Please Please Me, tra le tracce spiccava anche There's a Place. Fu una canzone particolare, ma sicuramente fa un certo effetto riascoltarla oggi, per via di quelle voci che poi sarebbero diventate così famose e con la immancabile armonica a bocca. Allora vogliamo riproporvela oggi. Buon ascolto!